La copertina delle feste dell'estate è tutta della Salernitana. Claudio Lotito, finora immobile o quasi sul fronte mercato, tra 14 e 15 agosto si è scatenato. E ingaggiati in meno di 24 ore due giocatori che possono cambiare diametralmente il destino della squadra di Mister Sanderra. Altro che Sassilotto o Mancini, con tutto il rispetto per questi due, la Salernitana si è presa prima Alessandro Volpe e subito dopo ha ufficializzato anche l'ingaggio di Pasquale Foggia. Dopo l'esperienza araba in quel di Dubai, Foggia, ex Sampdoria, Lazio, Cagliari e Regino tra le altre, tre volte azzurro con la nazionale A con l'aggiunta di un gol, a 30 anni ricomincia dalla prima divisione. Ricomincia dalla Campania, sua terra natale, da una Salernitana ambiziosa che vuole aggiungersi al tavolo delle pretendenti alla Serie B che vede già seduti e pronti a banchettare le favorite Lecce, Perugia, Benevento e Frosinone. Ma la domanda adesso nasce spontanea. Quanti abbonamenti chiederà i tifosi Granata e Lotito dopo gli arrivi di Volpe e Foggia? Il tecnico della Paganesa Genore Maurizio invece non vede l'ora di lavorare con il brasiliano William. Il centravanti giunto dal Genoa, classe 92, sarà agli ordini dell'allenatore di Colleferro già nelle prossime ore e debutterà domenica nel test con la Casertana. La numero 9 toccherà a lui, ma per le sue doti di velocità e dinamismo, potrebbe essere impiegato nel tridente offensivo anche da punta giunta, cioè esterno, con Beretta a quel punto centrale e con uno tra Deli e Cioffi sul lato opposto. Preso William, le attenzioni del direttore generale Deboli si spostano obbligatoriamente sul fronte cessioni. Si punterà a sistemare quei giocatori in esubero che sono in rosa attualmente. In entrata invece si lavorerà ancora su un centrocampista. Giorni di silenzio e riposo invece per la Noceri nei suoi dirigenti. Il direttore generale Pavarese sta lavorando sotto traccia, adesso sono i momenti più difficili e delicati per il mercato in entrata, cioè quelli in cui non puoi sbagliare la pedina, quella importante da inserire in un gruppo praticamente già formato ma da plasmare. La punta serve, ma serve anche un esterno. Forse sarà ingaggiato Remedi a centrocampo, quindi in mezzo si potrebbe pensare di essere a posto, mentre in difesa molto dipenderà dai movimenti in uscita. Se dovesse lasciare qualcuno, ecco che ci sarà pronto il rimedio oltre all'arrivo già di Romito. E come sempre in chiusura del nostro servizio, l'incursione nei ritiri di altre squadre. Oggi è l'ora dell'ascoli di mister Pergolizzi, che sta lavorando con difficoltà in queste settimane. L'uscita di scena dalla Team Cup però non ha lasciato tracce di delusione nel tecnico dei bianconeri che ha avuto come rinforzo il mediano ex salernitana Pestrin. Come tornando al discorso precedente, noi in questo momento siamo in lavoro in corso. È normale che c'è da completare qualcosa, ma c'è da completare perché non è in esubero o perché ce ne sono tanti e mettiamo qualcosa in più. Perché comunque ci sono due o tre ruoli che andrebbero completati o comunque andrebbero a fare coppia con qualche giocatore che probabilmente in questo momento potrebbe avere bisogno. Ma queste cose vanno fatte con calma, vanno fatte lavorando, vanno fatte senza fretta perché è un mercato particolare. dove ci sono tanti giocatori, quindi non bisogna avere fretta. Vanno fatte, ma vanno fatte con la giusta mentalità. Come Pestrin è arrivato, si sta allenando con noi, è un giocatore di esperienza, è un giocatore che stiamo valutando, è un giocatore che ci dà sicuramente delle certezze, ci dà dell'esperienza, della personalità. In un gruppo molto giovane questo serve perché io ho sempre detto che il giovane va fatto crescere ma insieme all'anziano perché comunque i risultati positivi fanno crescere il giovane, fanno sì che lui possa essere un investimento della società ma non si può solamente dire il giovane è pronto e gioca o da oggi a domani fa giocare un giovane, il giovane va costruito.